la prima l'ho fatta vieni verso l'estrazione? si non vedo niente questo tempo è sembra una merda non ci smu piove aspetta che entro un attimo qua a guardare aspetta che entro un attimo qua a guardare ok sono tornato indietro io sto tutto a sinistra io sto tutto a destra dai mi metto anch'io a sinistra dove sei? tutto a sinistra ma sei avanti? allora io l'altro camion dove ce l'ho? uno vicino alla gas station e uno a construction poi ci conviene andare custom cioè dormitori construction si si vado vai 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 corri corri non lo so permetti 53 fps qua stanno parlando a te? sembra di no c'è qualcuno allora davanti a te c'è qualcuno davanti a te eh? no sparano a construction sopra construction andiamo tutto a sinistra andiamo tutto a sinistra c'hai il mirino tu mica? no da lungo? no beh se è sopra construction me lo faccio io cazzo non me li vinto non ho visto tu controlla un attimo dietro guarda se riesco a farmi quello sopra costratto ci vedo un cazzo guarda che nebbia che c'è non c'è niente ma vaffanculo andiamo dai chiudi no 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 finita la staglia questa la 203 è tostava che mi ricordo un cazzo secondo piano è 200 eh ma di quello piccolo a quello grande? no di quello grande ci porto io ci porto io allora la 203 cosa ci devi fare nella 203? prende non c'è ok orologio d'aro non lo so eh lo zippo d'aro quindi è 53 fps fordisc ah però lo zippo d'aro prima sei? si si sto dietro vieni qua la differenza filtri delle chiavi quelle grigie sono del grosso quelle che invece hanno la cosina blu sono del piccolo c'è già gente stai all'occhio fai piano eh sto aprendo la 203 ecco questa? si attento ti ho coprito no è una cassetta ho presa ecco qua è sotto al letto no? si si io controllo qua dentro si è già centratico si ma stai attento eh che cazzo è questo? non basta che cazzo è un po' di merda eh eh? hai preso? si no è uscito si no è uscito ma era full equip? no no era un accettato però c'era un'arma lascia stare lascia stare lascia stare eh usciamo dietro dietro lo prendiamo da dietro ma va ti ho luttato è da sinistra eh sta facendo il giro da fuori che arma aveva? è un'arma dietro la schiena ce l'aveva una cappa aveva luttato ok ah ma sei tu questo sei io porca puttana filtri sei già lì sei? eh si per dio dai vieni via di lì eh andiamocene via andiamo verso un attimo che apro un po' di porte ma un attimo mi capite le porte ma si stai in cazzo la ZB014 ce l'hai filtri? non lo so vieni qua che c'è qua eh un attimo prendila tu un attimo ah mi devi dare quella chiave poi vado a vedere il primo piano se trovo lo fatto no 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 stiamo insieme aspetta un secondo ma la factory come fai a trovarla se è passato prima quello lì filtri eh beh uno ci spera sempre ma non l'hai chiusa la porta la? no cazzo vabbè quello sta ti do la chiave ti do la chiave ah te la do anch'io vieni qua eh c'è gente nell'altro dormitorio eh e dove la chiami? ah qua qui ah 114 del piccolo usciamo filtri che c'è gente nel piccolo no recco non merda lo è stato ma non è morto è un pezzo di merda cioè io quando sparo alla gente non muore è pure io stessa cosa guarda ho sparato un caricatore ieri ieri ho sparato un caricatore un caricatore a un accettaro nella schiena non è morto mezzo allora fai no dal piccolo sono io ok ok sei tu che salti? no c'è uno che salta qua dentro 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 ti do la porta ti do la porta ti do la porta ti do? ok è qua stai scendendo? sei tu che si lo scende morto porco due mi son cagato sotto era scaldo no 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 play copri un attimo vieni qua sotto copri il corridoio che devo ricaricare il caricatore porca puttana mi son cagato sotto ce n'è un altro ma ero io ma non sono io non ti ho mica ammazzato io ah e allora c'è nessun altro pensavo che ho visto il cadavere ho detto lo ha ammazzato ma porca troia erano due e non me l'aspettavo proprio quello stava la perché tu hai detto vieni qua che devo caricare non lo sapevo che ce n'era un altro io no no tranquillo porca puttana è un fallito la missione mia cosa dovrei fare da capo che palle che spiega si ma non hai capito che io sono ancora in tempo a morirci ti preoccupare vabbè andando che tu continui a morire che andando vado woods nasco e provo a prendere la usb è entrato qualcuno è entrato qualcuno a a a a a a a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non so, non ho provato a venderlo. Non so quanto valga. Non so, non so. Non so, non so. Non so, non so, non so. Non so, non so, non so. Dovrei farne la 61 sempre. Ah, sì, fa un peso su questo gioco. Ma c'è una 970 Strix, 16 giga di ram. Non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so, non so, non so. Vedi se c'è la factory? C'è la factory? No, vedi se c'è la factory. Dove? va a tomar la factory? No, la юr gör no? Non so, non so, non so. Non so, non so, non so. guarda. vale più un hard disk secondo te o una pistola eh non lo so penso la pistola ok non mi tengo la pistola l'hard disk ti serve per i caricatori se non ce li hai ma è vero vabbè poi penserò tanto tu li puoi comprare no? cazzo di dio se trovate un altro gas me lo tenete per favore cosa ti ho detto che ci dobbiamo andare qua? enter 5 che dobbiamo fare appena visto uno con il gzell k come tattico armor se solo avessi avuto un fucile cazzo mai visto il pacco? è quello grigio il pacca grigio non è proprio il tattico tattico è l'armor grigio invece è esatto anche io non ho mai visto quell'altro quale? io non ho visto eh dimmi il tattico che però puoi metterci le piastre balistiche dentro cioè che in teoria ha di più self le piastre balistiche no no c'è tapet magari non l'hanno ancora introdotto diciamo tipo il ki ba ki che non l'hanno ancora giunto o le cuffiette nuove no le sword in credo ci siano non l'ho mai trovate io però no non ci sono le sword in ci sono mai trovate? non vuol dire che non ci siano d'accordo infatti anche quel tattico lì secondo me c'è ma o nessuno lo usa ancora tutti aspettano di avere la fort l'altin come casco poi metti quello lì come tattico e diventi un cazzo di carro armato tanto poi ci sono gli scab che ti shottano le gambe e muori no ti shottano anche se c'hai l'elmetto non hai capito ma non c'è mica da ridere eh eh no è così e magari forse ma siamo gli scassi sono gli scab che sto fuoco ma eh sì tanto adesso il quarto come ha convinto di tirare non c'è il cazzo uè black il quarto si il quarto secondo me stava sparato a me che ero dietro forse coglione minchia ma i commenti dopo ci sono la fine del mondo io mi metto a pego cioè che non so chi ha iniziato a parlare poi io ho detto sei un cazzo di mostro e tu boom baby cosa è successo raga? da lì è partita l'ignoranza proprio la gente che metti mia pecora fammi fare un figlio rabe proprio voglio un figlio da te bello bello quel video bello bello non c'è non la scambolistia troppo eh ci state? per un po' di intercenico verso intercenico no anche io non mi devo troppo troppo devo trovare più scionca bianni golden swag a me ne servono undici Solo? Io ne ho uno Mi prendono 17 Chiatevela a carta forbice e sasso perchè si prenderà il mio 2-shock O non so Chi ci sta armando? Chi sei? O non so O rifacciamo custom l'ultima volta, c'ho due missioni da fare tutte e due al stesso punto Gli stessi dormitori, devo prendere l'orologio dorato e una caffa di oggetti Prodo di aver le chiavi Come vorrei, te la 220 Che l'azzo del sugo mi sa Chiedo andare alla 203 e ce la capo E poi l'altra che non so qual è Se vi va facciamo un tasto Io non so, però io ci sto Io a me non contatemi ragazzi, io sono su shoreland e accetta a fare le quest Mi lascia non male Quando andate su interchange voi vengo anch'io Si Si tratta che tu ti sei frustrato? No, ho fatto la missione tutta Adesso Andando a vedere se spona qualcosa in questo punto Lui mi porti, lui ti porto la cartina tutta Si, ti porto la cartina tutta E in più ti torna anche Ma come piove non sento niente, neanche i miei passi Anche a me sta piovendo Che palle però, piove sempre E la cosa divertente è che è iniziato a piovere fortissimo Fortissimo Io sono entrato dentro una casa e dentro c'era un player E non mi ha sentito niente L'hai ammazzato? No, ho messo un piede dentro la stanza Mi son girato e me ne sono andato Ora sono tipo fuori dalla casa in ginocchio Sto facendo passetti passetti tutto attorno Perché vedere dalle finestre dov'è E che cazzo Anche a me è capitato sai A volte di entrare in Eh No, finire paga Che palla Niente paga